Incomedia è un'azienda nata a Ivrea nel 1998 che si è sempre occupata della produzione di software per le scuole, tutto il mondo education e anche per le PMI. Abbiamo una serie di soluzioni software, la più importante è WebsiteX5, che è un software che consente alle scuole di creare contenuti didattici, lezioni online, siti web, blog e e-commerce e viene molto utilizzato dalle scuole sia italiane che estere perché appunto Incomedia, pur essendo un'azienda al 100% italiana, produce questo software ma lo vende principalmente all'estero, quindi l'80% dei nostri clienti sono stranieri. Per quanto riguarda le scuole italiane, WebsiteX5 è appunto il nome del prodotto, va molto bene per tutto il progetto del piano scuola 4.0 perché viene utilizzato dalle scuole per l'azione 1 e per l'azione 2 e principalmente appunto anche per l'azione 2 proprio per il discorso della creazione dei contenuti digitali che possono essere creati tranquillamente dalle scuole con i nostri tool. Siamo qui a Didacta Catania proprio per incontrare le principali istituzioni che si occupano di innovazione tecnologica e poi per incontrare tutti i principali partner commerciali con il quale attualmente lavoriamo in modo poi da rinforzare la nostra partnership. La WebsiteX5 per l'azione 1 viene principalmente utilizzata proprio dalle scuole per la creazione di contenuti didattici, ricerche scolastiche e siti della classe sia a livello italiano che come dicevo prima anche a livello S. Per l'azione 2, WebsiteX5 può essere utilizzato negli istituti superiori per la creazione di percorsi, diciamo per tutto quello che è la comunicazione e il mondo del marketing e quindi se una scuola italiana, un istituto superiore deve fare un percorso a livello di tecnologia, comunicazione e deve far vedere per esempio dei tool per la creazione di siti web, blog e e-commerce, il nostro software va più che bene perché proprio diciamo riveste questa funzione ed è molto utilizzata dai docenti italiani.